solo che adesso la mia famiglia deve avere la mia famiglia deve avere scontri dove la famiglia adesso si 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 grazie e poi ci sono i procetti per il di blanco in tutto il concetto è sempre una partita per i campi per i campi c'è la foto Non si vede la porta Non si vede la fascia E l'hai spostato un po' Piero, non si vede niente Attenzione al cavalletto Piero Io mi allontano, non ne voglio più soffrire niente Lascia persa lì Ma scusa, ma non c'è nessuno che guarda No, guarda solo Sì, dove c'è solo... Ah, è pronto Ma è l'unico, è tolto Non lo so, non lo so L'ufficio stampa al Novara Come? L'ufficio stampa al Novara Ah, sì, sì L'ufficio stampa al Novara Allontano L'ufficio stampa al Novara Sì, sì Non lo so, non lo so Nel posto del Dottore Ma è cazzo Il posto, il posto Vieni, in fronto Vieni, in fronte Avviamo A un po' te dentro a cosa Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. Grazie. 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 Sì, 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 sì. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.